E allora, chi è Milano? Non è successo ancora niente, perché vi abbiamo voluto pure bene questa sera, perché questa sera amico milanista devi accendere un cielo alla Madonna, mamma mia, v'è andata proprio di lusso, io ho un'umiliazione del genere in tutta la mia vita così, una partita di Champions, una semifinale, soprattutto quello che ho visto il primo tempo, non l'ho mai vista, dovevamo stare 4 a 0 dopo 15 minuti, sto godendo perché dobbiamo... Andiamo! Andiamo! Mi avete fatto piangere come un bambino, mi avete fatto piangere dai tempi di quest'uomo qua, dai tempi di quest'uomo qua! E allora, la seconda coppa è in bacheca, quelli che tutti lo chiamano la coppetta o coppetta, ragazzi, qua fuori tutti i tifosi della Fiorentina erano diventati, attaccato la Fiorentina, no, no, tutti ad urlare! A casa! Ragazzuoli, buonasera! Allora, piccola comunicazione per voi, lunedì sarò in live dallo zio Chris, clan interista, commenteremo ovviamente alla finale di Champions, zio, quando sto registrando questo video non so ancora come sarà finita, speriamo bene, ma parleremo di tante altre cose, calcio e mercato, domande, curiosità, quindi mi raccomando, orario di aperitivo, facciamo un aperitivo insieme allo zio Chris, parliamo di Inter e di tante altre robe, mi raccomando, quindi lunedì! Ciao a tutti, bella gente, avete visto il videopromo, rinnovo l'invito, lunedì 12 giugno, ore 18.30, aperitivo con Chris Luigi Inter su canale, su franinterista, con lo zio Polpa, parleremo ovviamente di quello che è stata la stagione dell'Inter, della finale, a oggi non sappiamo quello che succederà, quindi commenteremo quello che succederà, daremo il voto al campionato, alle coppie, la stagione, parleremo un po' di società, un po' di calcio al mercato, anche se siamo gli inizi, e di nomi ne verranno accostati a Bizzef, quindi abbiamo il callo, siamo pronti queste cose, sappiamo come funziona, non si devono tutte prendere notizie per quelle che sono, prendiamolo per quelle che sono, voci, rumor, quindi nomi ne avremo 1350, quindi quello è, ci vediamo lunedì, faremo anche durante questa live due o tre passaggi, un'intervista a Luigi, intervallate dalle vostre domande, dalle questioni che vi abbiamo elencato, quindi non mancate una live non per tutti, solo per intenditore, sempre Forza Inter e la fottuta maglia, ti fate solo la maglia.